Mi chiami, mi dici come ti chiami, Maurizio, e che progetto segui questo qua? Questo qua, l'abbiamo cambiato nome da poco, ok dimmi il nome nuovo, Pack It Up, come? Pack It Up, e che cosa deve, cosa fa? Bellissimo, ti aiuta, è il nuovo punto che raccoglie tutte le informazioni di cui bisogna per creare la tua valigia Ho mia valigia? Ma io sento me la fa mia moglie la valigia, è stata tutta, ma quale informazioni, che qui oggi c'era freddo? Sono solo al mondo, sono solo al mondo, ma dimmi quale valigia, per viaggiare, qualunque cosa, business, cioè gli dico devo andare a Torino e lui mi dice tutte le cose che mi sa, Assolutamente, sono a Torino, per lo Startup Weekend, tre giorni, devo partire, che tempo fa? Tutto quello che c'è? Conosce il mio ambigliamento, mi consiglia pantaloni verdi, giacchettine tali, maglietta tali, cose così Ok, mi hai detto che ti chiami, nome e cognome? Maurizio Migliore